eccomi qua vi faccio un video sulla mia recentissima esperienza di un viaggio da sola con giulio siamo tornati da circa una settimana da parigi siamo stati solamente io e lui per quattro giorni e ho colto l'occasione appunto perché avevo una settimana di ferie e volevo andare a trovare una una mia amica carissima amica che fra l'altro era da sola in appartamento per un po di tempo per cui ci avrebbe potuto anche ospitare il fidanzato non c'era e quindi l'occasione era assolutamente favorevole per poter fare questo viaggio il biglietto aereo con ryanair era costato pochissimo sia per me sia per giulio addirittura molto meno di 100 euro per tutti e due per cui l'avevo prenotato in tempi non sospetti o comunque anche con un mese d'anticipo vedendo decidendo anche di vedere poi lì per lì e a seconda di alcune incognite tipo giulio si fosse ammalato oppure se qualcosa non non fosse andato liscio per poter partire non avremmo perso appunto una una cifra esagerata diciamo che l'ansia prima di partire era esagerata era era molto elevata perché avevo un po paura di doverlo gestire in dover gestire giulio in aereo e soprattutto nell'autobus perché con la ryanair si costa poco però effettivamente ti porta a parigi a bovè che praticamente è normandia e quindi da lì poi c'è c'è un autobus da prendere di un'ora e mezza quindi adesso giulio che cammina da un paio di mesi è difficile da tenere fermo seduto in braccio molto vivace per cui era un pelo preoccupata di questo viaggio ho rischiato fino all'ultimo di perdere l'aereo perché inconsciamente diciamo dimenticato il cellulare a casa per cui a metà strada già eravamo in ritardo per andare all'aeroporto poi a metà strada siamo dovuti tornare indietro perché avevo dimenticato il cellulare e non potevo assolutamente partire senza cioè faccio fatica a sentirmi sconnessa completamente dal resto del mondo comunque anche insomma per sentire le persone che rimangono a casa per sentire la mia amica la quindi insomma mi serviva e abbiamo deciso come la ryanair un po impone di viaggiare leggeri quindi un po è stato il fatto che comunque siamo stati ospitati in una casa quindi a casa mia amica ha un po agevolato questa cosa qua perché comunque io facendo la valigia pensavo che se qualcosa mi sarebbe servito l'avrei trovata lì quindi abbiamo visitato leggeri con una valigia in due bagaglio a mano e uno zaino perché l'area nera è abbastanza rigida per cui una valigia di dimensioni ristrettissime e uno zaino un bagaglio in più per il bambino di massimo 5 kg per viaggiare da sola appunto con passeggino con valigia per fare anche su e giù dagli aerei e quant'altro io ho optato per una valigetta che adesso vi faccio vedere è questa qui e è così è una valigia morbida delle dimensioni della ryanair però vi faccio vedere che ha questa particolarità qua praticamente ha un è qui ha le è diventa uno zaino all'occorrenza adesso così insomma diventa uno zaino adesso è questo qua è staccato perché l'ho staccato nel frattempo quindi te lo puoi mettere in spalla nei momenti in cui magari deve anche sollevare il passeggino comunque deve avere in braccio giulio e quant'altro ed è molto comodo effettivamente l'altro zaino invece ho sempre deciso di viaggiare con lo zaino comunque che ho comprato apposta è questo zaino qui della airshell che finalmente ho comprato che mi piace molto come zainetti io sono una fan degli zainetti prima o poi ve ne parlerò e questo zaino qua è abbastanza capiente ha questa fibbia bellissima di caucho a pressione ed è abbastanza capiente ed è abbastanza capiente e quindi insomma abbiamo usato questi due qua per cui potevo poi mettermelo davanti se non è bellissimo però effettivamente abbastanza gestibile e quindi abbiamo deciso di viaggiare leggeri io per me ho portato qualche cambio e anche per giulio portato un po di cambi ho visto che le temperature non erano caldissime quindi non erano altissime quindi ho dovuto prendere anche un po di vestiti a strati andiamo con ordine in aereo e appunto le varie consigli per viaggiare con un bambino piccolo in aereo sono quello di dargli il ciuccio comunque farlo bere durante il decollo all'atterraggio per questioni di mal di orecchie che però giulio visto che non ha grossi problemi comunque io gli ho dato il ciuccio vestirli un po strati un po a cipolla perché effettivamente può essere freddo con l'aria condizionata sulla sull'aereo e quindi questo portare anche un po di giochini vari piccolini perché poi dovendo viaggiare leggeri io ho portato tutta una serie di giochini micro che stavano in un sacchettino così in cui avevo messo dentro un po di cubetti impilabili qualche noce e delle scatoline con dentro delle cose che si che fanno rumore ho portato due librini che dei preferiti del momento suoi di quelli musicali e poi che altro sì due o tre di quegli aggeggi che sono che avevo messo nel cesto dei tesori proprio perché così lui potesse scavare e intrattenersi almeno tre secondi con ciascun giochino e quello è stato utile in aereo in effetti perché perché aveva bisogno di intrattenersi lui non ha dormito in aereo anche se era ora del pisolino pomeridiano poi per fortuna si è addormentato dopo nel viaggio in autobus anzi no peggio si è addormentato all'atterraggio quindi io mi sono dovuta fare le scale dell'aereo con un peso morto addosso fortuna che poi c'è gente che ti aiuta ecco il bello di viaggiare da soli in realtà è che c'è gente e tanta che ti vede e ti dà una mano te lo chiede comunque ed è fantastico poterli dire sì grazie in modo tale che comunque si fa meno fatica ecco per portare tutto il passeggino è un passeggino anche questo leggero e che è un passeggino della baby jogger il mini zip quindi si comprime anche molto è un passeggino che costa che costa sì su 270 euro e pesa in tutto sui cinque chili quindi è abbastanza leggero un'altra cosa che ho scoperto invece là e che se avessi saputo prima non sarei partita è che a parigi la metropolitana praticamente quasi da nessuna parte c'è l'ascensore o le scale mobili quindi sono un po è un po old fashion quindi devi devi andare su e giù con il passeggino a manoni sempre con giulio dentro cioè su e giù per le scale io ho anche male a un polso diciamo che per quattro giorni l'ho sentito ho fatto della bellissima e faticosissima ginnastica poi ho cercato in realtà di camminare il più possibile e allora e quindi appunto questo è un po mi ero fatta un po di note quando appunto subito quando ero fresca del viaggio così potevo raccontarvi potevo raccontarvi tutto ecco parigi io l'avevo già vista quindi insomma diciamo che è stato proprio per me il motivo del viaggio era quello di andare a trovare e stare con la mia amica passare un po di tempo con lei insieme a giulio e quindi perché erano anni comunque che ci vedevamo sempre per una sera due sere in cui ci doveva raccontar tutto e invece avevo proprio piacere di stare con lei per un po di tempo quindi questo per me era il vero motivo detto questo quindi tutto il resto tutto quello che dovevamo fare per intrattenerci e giulio erano cose in più quindi erano cose di piacere e molto tranquille fatte in modo senza affanno di dover vedere tutto perché poi parigi ripeto l'avevo già vista abbastanza ecco ci sono alcuni posti che non ho ancora visto ma poi ci sarà altre occasioni quindi mi ha fatto vita da parchi che in realtà io adoro i parchi nelle città ho fatto anche un post sul mio blog sull'importanza dei parchi soprattutto quando si ha un figlio e quindi la casa della mia amica fra l'altro è la Gare du Lyon vicinissima quindi alle Giardin des plant che è il giardino botanico dove c'è anche lo zoo insomma molto bello e quindi la prima mattina siamo andati lì tutto il tempo poi giochi da bambini ovunque il playground sparsi un po' ovunque e poi siamo andati nel mare che era lì vicino quindi in Place des Vosges abbiamo fatto un giro abbiamo pranzato e poi appunto basta ho cercato sempre di fare il pisolino che sono una cosa che un consiglio che do non strapazzarlo appunto forse proprio anche perché non devi non si deve stravedere tutto con un bambino in una città o in un luogo in cui si va ma io pensavo ho pensato di stare in giro sicuramente la mattina andare a cena fuori la sera quando tornava la mia amica dal lavoro però al pomeriggio il pisolino poi appunto farglielo fare in casa in tranquillità e per tutto il tempo che necessitava anche perché la mattina lui di solito fa ancora il pisolino anche se ha 14 mesi e lì aveva smesso di farlo per cui arrivava a luna dopo pranzo cotto cotto come una sardina alla griglia quindi insomma mi andava anche di assecondarlo in questo suo bisogno fisico proprio della dormitina per mangiare si la francia abbastanza baby friendly si trova molte cose però in realtà ai ristoranti non c'è il seggiolone quasi da nessuna parte perché sono quasi tutti i bistrò quindi io avevo preso su questo che è il seggiolino diciamo portatile della mini monkey che ho comprato sul sito di family nation a presto abbastanza basso 24 euro che ho utilizzato un paio di volte non si aggancia alla sedia questo si aggancia a qualsiasi sedia molto sicuro però il bambino stasse seduta sedia quindi abbastanza basso e in realtà quasi sempre io l'ho tenuto nel passeggino perché mangiava comunque nei bistrò all'aria aperta e lui mangiava nel passeggino come mangiare alla fine io avevo portato su cioè a Parigi e alla fine da qua gli ho omogenizzati quelle pappe pronte della hip in particolare che immagino abbiate presente e le facevo riscaldare al microonde o in una boule di acqua bollente e quindi in dieci minuti massimo erano pronte e anche meno in realtà dieci secondi probabilmente e quindi mangiavamo andavamo liscissimi così non devo preparare pappe e quant'altro ho pensato che per tre a quattro giorni non sarebbe stato un problema ho provato anche a dargli cose locali alcune volte è andata bene altre volte meno e quindi ci ha provato con le crepes ma non gli sono piaciute le crepes salate ho provato invece con l'anatra e quella gli è piaciuta tantissimo patatine insomma alcune cose mi sono un po' lasciata andare ho pensato di non dover essere super rigide super lisa quindi l'ho fatto assaggiare un po' di cose ed è andata bene e quindi insomma questa è stata un po' alla gestione dei pasti e altre volte invece siamo andati appunto in altri parchi però prendendo la metropolitana uno dei miei posti preferiti sono le Giardin du Luxembourg per cui siamo andati lì che è Saint Germain de Pre un po' lontano rispetto a dove eravamo noi come appartamento però alla fine ne valeva la pena perché è uno dei miei posti preferiti ho sempre sognato di stare ore e ore per trascorrere molte ore a Ricardin du Luxembourg ma ero a leggere in questo caso non ho letto neanche mezza pagina neanche di una rivista però in realtà mi sono divertita a stare dietro Giulio a vedere che esplorava tantissimo i nuovi posti mi sono imposta anche per per paura insomma che a lui potesse succedere qualcosa perché appunto adesso si butta dai dalle scale senza remore quant'altro di concentrarmi su di lui quindi di vedere pochissimo il cellulare di lasciare non controllare le mail e ho pubblicato foto su Instagram potete vederle sulla mia sul mio profilo che è Deborucchi e potete vedere delle foto che insomma sono dei bei ricordi e sono venute molto bene anche perché le giornate sono state bellissime quindi insomma molto accesi come colori però lo facevo quando ero in situazioni abbastanza sicure quindi quando eravamo a pranzo oppure quando Giulio dormiva il pomeriggio io mi sdraiavo lì di fianco a lui perché ecco abbiamo passato effettivamente quattro giorni in simbiosi continua e è un'altra delle cose molto belle che mi è piaciuta un'altra delle cose molto belle del viaggiare con bambini è proprio quella appunto che vi dicevo del pisolino il pomeriggio il fatto che il fatto di avere dei ritmi loro ti fa sentire quasi più cittadino di quella città cioè che in realtà non sei in vacanza ma stai vivendo come vivrebbe una mamma con un bambino in quella città per cui fargli fare delle cose ma allo stesso tempo anche fare delle cose a casa propria appunto proprio per dare a lui la possibilità di riposarsi ecco una cosa che non si fa assolutamente è lo shopping cioè con i bambini io non sono riuscita io proprio non riesco a entrare con calma nei negozi provarmi le cose comprare quello quell'altro anche perché col bagaglio a mano era difficile caricarsi ulteriormente ho comprato tanto per cambiare due librini in francese per lui ne li faccio vedere le ho comprate al museo della musica quindi sono due librini uno musicale che suona dappertutto delle filastrocche adesso non devo mettere la batteria devo farlo sentire quindi le carneval des animaux il carnevale degli animali e poi questo su quei gufi che sono i miei animali preferiti e spero diventeranno anche i suoi e che cosa fanno tutti gli animali la sera prima di andare a letto i ricci gli ermellini gli uccellini le galline è veramente un libro per il canone bellissimo che lui adora i cani e poi cosa fa alla fine il bambino con la mamma prima di andare a letto e quindi insomma dopo un viaggio da soli io e lui lui con la mamma non potevo prendere un libro che finiva e appunto con un bimbo e con una mamma insomma vi ho dato un po' di tip spero un po' di indicazioni su come viaggiare è bellissimo quindi non se vi va non fatevi spaventare potrebbe essere un po' faticoso ma veramente se poi la siete curiosi felici lui lo sente e secondo me l'ha sentito rispetto a me perché veramente è stato buonissimo e molto più buono e molto più gestibile di come invece è a volte a casa qui normalmente in giornate normali è stato un viaggio molto bello è stata una delle volte parigi io l'adoro ma anche questa volta l'ho vista con occhi diversi e mi è piaciuta tantissimo se volete vedere le foto appunto su le vedete su instagram e presto farò anche sicuramente sul blog un post con alcune foto il mio blog è appily surviving come sapete grazie mille per avermi seguito e ci vediamo prestissimo con un altro video ciao